Un momento particolare perché il 30 novembre in Etiopia si decide se la rumba cubana è patrimonio immateriale e vivo della umanità. Finalmente Cuba ha avuto un riconoscimento meritato che si decidirà il 30 novembre e il 4 dicembre, il giorno del Cangò, a Cuba si festeggiano tutta l'isola, ma si ha avvicinato Aldo. Ci darei un applauso. Mi metto a lui, no, anche perché lo stesso giorno alla Maison Latina, al distruttore, facciamo anche lì una festa di Cangò, quindi il numero particolare stiamo preparando lo stesso giorno all'ora di pranzo. Sarà un lungo mattinè cubano dedicato a Cangò perché il 4 dicembre è domenica. Un applauso a questo gruppo che è un'insegna della cultura cubana. Loro hanno portato la rumba al di là del nostro confine e hanno fatto una gira per tutta Europa, importante, anche non soltanto appartiene alla rumba, sino a tutta la cultura cubana. Diamo un applauso a Yoruga Andavo. Yoruga Andavo. Yoruga Andavo. Yoruga Andavo. Sì! Nosotros seguimos sonando Nosotros seguimos sonando . 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